Una nuova maxi retata allarga il gruppo dei sodali di mafia capitale. Dall'alba i carabinieri del Rossa hanno arrestato 44 persone in Sicilia, Lazio e Abruzzo, 21 gli indagati a piede libero. Tra gli arrestati anche figure di spicco della regione Lazio e del Campidoglio, come Luca Gramazio, capogruppo PDL al Consiglio regionale, Mirko Coratti, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Roma e l'ex assessore alla casa Daniele Ozzimo, arrestati anche i consiglieri comunali Massimo Caprari e Giordano Tredicine e Daniele Magrini del Dipartimento Politico e Sociali della regione. Secondo la Procura di Roma un vero e proprio cartello di imprese gestiva il business milionario legato all'accoglienza di rifugiati a Roma. Per gli investigatori gli accertamenti seguiti alla prima ondata di arresti del 2 dicembre scorso che hanno portato in carcere il terrorista nero Massimo Carminati e l'uomo delle coppe rosse Salvatore Buzzi hanno confermato l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella capitale, cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici, amministrativi ed imprenditoriali locali. In particolare le indagini hanno documentato quello che gli inquirenti definiscono un ramificato sistema corruttivo finalizzato a favorire un cartello di imprese interessato alla gestione dei centri di accoglienza e consistenti finanziamenti pubblici connessi ai flussi migratori. Nel mirino della Procura di Roma la gestione del centro Cara di Mineo e quello di Castelnuovo di Porto. Tra gli arresti anche il sindaco della cittadina laziale Fabio Seffoni. Grazie a tutti.